Monsignore, nell'ambito della famiglia, come educare e come aiutare i nostri figli? Con la stessa naturalezza e semplicità, con le quali hai insegnato loro a prendere mano a una forchetta, hai cominciato a insegnare a dire papà, mamma, a fare ciao, la educazione cristiana dei figli nasce dalla propria esperienza cristiana, per cui come si insegnano gesti naturali, si cominciano a insegnare anche gesti spirituali, il segno della croce, la preghierina, la presenza di Dio, l'angelo custode, quelle cose che a noi adulti sembrano ormai quasi romanticherie, che per i bambini sono le prime esperienze belle di un mondo soprannaturale che entra nelle nostre famiglie con estrema naturalezza. Così, quello che tu senti nel cuore, a me mamma quando faceva la comunione poi mi dava un bacio perché fosse quasi il bacio di Gesù al piccolino primogenito, quello che ti viene avvii, hai avviato le tue figlie alla vita, avviale anche con la stessa naturalezza alla vita cristiana. Nell'ambito anche delle problematiche collaborative, come possiamo noi cristiani affrontare e metterci proprio nelle mani del Signore? Ma innanzitutto pensando che il lavoro non è una maledizione, soprattutto quando ce l'abbiamo e quando questo lavoro magari per la sua pesantezza ci crea dei problemi nell'organizzarci la vita. E poi nel trattare il lavoro come missione che abbiamo per fare la nostra parte, per rendere questa terra e questo nostro tempo più rispondente ai disegni di Dio. Il lavoro che sia fatto nel rispetto delle leggi divine e umane. Il lavoro che sia un'occasione di incontro con l'altro e chi ha la possibilità, perché ha un'attività, perché ha delle realizzazioni, perché ha della fantasia, fare in modo che il lavoro sia nei confronti del proprio simile un'occasione di promozione umana. Trattare male il lavoratore dal punto di vista dei rapporti, trattare male il lavoratore dal punto di vista del trattamento, il lavoro nero, l'attività sfruttata senza il rispetto di quelle clausole e di quelle regole minime che rendono il lavoro veramente un momento di incontro e di crescita e contro il disegno di Dio. E se il lavoro ce lo rendiamo meno problematico perché ci aiutiamo a fare in modo che anche la prestazione d'opera oppure l'elaborazione mentale possa essere un mezzo per esprimere noi stessi, per incontrare gli altri, diventa anche un mezzo di crescita e di promozione umana. Grazie affinitamente. Grazie a te. Grazie a te. Monsignore, io le volevo chiedere, in merito all'emigrazione, tutti questi ragazzi che vengono, come li possiamo aiutare, come possiamo nella nostra piccola comunità? Le nostre piccole comunità hanno piccole domande e quindi diciamo che è più facile rispondere alla questione migratoria, tenuto soprattutto conto che a noi in Sicilia viene chiesto particolarmente di affrontare il problema della prima accoglienza, perché questi che vengono sanno che noi non possiamo offrire granché, vogliono andare altrove, allora il problema principale è quello di evitare le disgrazie in mare, evitare di far trovare cuori e porte e case chiuse, accoglierli come fratelli, anche un abbraccio, anche un piccolo dono, anche un pezzo di pane, una parola, un sorriso, un paio di calze, una sciarpa, se abbiamo l'occasione di incontrare qualcuno non riteniamoli persone che vengono a turbare la nostra pace o che siano persone che erano delinquenti da loro e vengono a delinquere qui, sono persone che hanno avuto e hanno gravissimi problemi per risolvere i quali devono lasciare la loro terra se non vogliono morirci e quindi immedesimiamoci, più che gesti concreti, quelli ci vogliono, ma a volte più che quei gesti concreti quello che conta è veramente l'apertura del cuore, uno sguardo e un sorriso. E poi le volevo chiedere, il Papa come possiamo far ascoltare, giusto ascoltare, andare nel nostro, cioè far venire dentro il cuore tutto quello che dice il Papa, seguire la sua... La sua linea, il suo insegnamento. Sì, sì, sì. Il Papa... Perché volte ascoltiamo, ma non... Cioè sentiamo, più che ascoltiamo. Il Papa parla un linguaggio molto accessibile, parla il linguaggio della vita quotidiana. Come possiamo dare gli altri? Ecco. E dovremmo fare in modo che gli altri capiscano che il messaggio del Papa è rivolto all'uomo, non è rivolto al credente, non è per il cattolico. E' un insegnamento che vuole arrivare a tutti, ed è un insegnamento che vuole affratellare, che vuole unire, che non vuole dividere, che neanche nelle diversità bisogna trovare così il pretesto per combatterci, né la diversità di religione, né la diversità di razza, né il colore della pelle, né la diversità delle vedute. Perché la diversità non è un problema, la diversità è una risorsa, come il corpo umano, se fossimo tutti o tutti uguali tra noi, il mondo sarebbe molto monotono. Così, facciamo questa bella pubblicità al Papa, a lui farà piacere e noi ne troveremo grande giovamente. Le ringrazio. Grazie a te.